Buongiorno amici, oggi sta piovendo, oggi è una giornata di pioggia, una giornata grigia, ma molto rilassante, perfetta per raccontarvi una storia. Con questi capelli osceni e questa barba incolta da quarantena, oggi sono qui per raccontarvi, come sicuramente avrete letto dal titolo, la vera storia di Garbagnate milanese, il terzo posto che ho visitato di più in tutta la mia esperienza da Urbexer. Quindi come nasce l'ospedale di Garbagnate? L'ospedale di Garbagnate nasce all'inizio del secolo scorso e diventò presto il fiore all'occhiello, uno dei fiori all'occhiello degli ospedali dell'Interland milanese. Venne costruito su progetto dell'architetto comunale Giannino Ferrini ed entrò in funzione dal 1923. Fu un sanatorio inizialmente volto alla cura della tubercolosi. Pensate che la sua superficie totale occupava ben 750.000 metri quadrati, di cui 33.000 di questi edificati, 100.000 tra strade e viali, 40.000 di giardini, 77.000 di terreni coltivati e restanti 500.000 di bosco. Perché dovete sapere che Garbagnate milanese, o meglio l'ospedale di Garbagnate, giace esattamente all'interno del Bosco delle Groane. Nel 1929 fu edificato un nuovo padiglione da 800 posti letto riservato alle donne, mentre l'anno successivo ne fu aggiunto un altro da 1000 posti letto per i bambini, per un totale di oltre, pensate, 1500 posti letto. La prima gestione dell'istituto fu intitolata Vittorio Emanuele III e venne affidata all'ospedale maggiore di Milano. Durante la Seconda Guerra Mondiale, più precisamente nel 1942, la gestione amministrativa del complesso fu affidata al Pio Istituto Santa Corona, che però non si occupava direttamente dei malati e il 29 agosto del 1946, dopo un'intera vita dedicata alle persone affette da tubercolosi, Guido Salvini morì. Ma chi è Guido Salvini? O meglio, chi fu Guido Salvini? Guido Salvini è un medico speciale, ma prima di tutto è speciale come uomo. Guido Salvini prestò servizio al sanatorio insieme alla moglie Maria, sua grande sostenitrice intellettuale e morale. Fronteggiò la tubercolosi a viso aperto e non temette mai di sporcarsi le mani. Girò nel milanese con il suo calesse, non aspettando che siano i malati a giungere presso il suo domicilio. Li precedette, recandosi nelle loro cascine per portare cure e conforto. È un tisiologo che non effettua mai nella sua intera vita una visita privata, ritenendo questa modalità non compatibile con la missione pubblica che gli è stata affidata. Trascorre la maggior parte del suo tempo dentro le stanze affollate delle cascine di quegli anni, dove in una sola camerata si riuniscono tutti, davanti al fuoco, nel tentativo di dimenticare per un attimo il freddo e la fame e gli stenti e la povertà e la malattia. E quindi questa è la storia di un uomo, di un grande uomo, che per anni riesce a tirare le redini di un sanatorio volto appunto alla cura della tubercolosi stessa. Un uomo che fece del suo lavoro la sua missione per riuscire a salvare decine e decine di vite. Nel 1949, dopo la morte di Guido, il Pio Istituto Santa Croce assunse anche la gestione dei pazienti e fece costruire nuove fosse biologiche, un nuovo pozzo per l'approvvigionamento dell'acqua, terrazze coperte per la terapia dell'aria ed altre scoperte per l'elioterapia, oltre ad un'autorimessa per i mezzi di servizio. Fu inaugurata anche una scuola di riqualificazione professionale per i ricoverati, che tutt'oggi rimane abbandonata, un pochino nascosta rispetto alla struttura dell'ospedale in sé, che oggi purtroppo è diventata l'abitazione di qualcun altro. Nel 1951 invece venne rinnovato ed ampliato il reparto di radiologia, mentre l'impianto di riscaldamento venne convertito dalla nafta al metano e collegato direttamente con la rete Agip. L'anno successivo venne restituite le divisioni di chirurgia generale e di medicina e di pneumologie. A causa della contrazione del settore sanatoriale dovuta all'introduzione degli antibiotici, nel 1955 il sanatorio cominciò ad essere convertito in ospedale generico ed i posti letto arrivarono al 50% della capacità ricettiva della struttura. Il 10 novembre dello stesso anno l'ospedale venne rinominato a Sanatorio Guido Salvini della città di Milano, in memoria di quel grande uomo che fu Guido. Ma la progressiva ed incensante diminuzione dei casi di tubercolosi portò alla completa conversione in ospedale generico negli anni 70. Nel 1998 venne istituita l'azienda ospedaliera, accorpando sotto un'unica amministrazione i presidi di Bollate, Garbagnate, Passirana e Rho. Attualmente Garbagnate dipende dall'azienda sociosanitaria territoriale di Rho, costituita il 10 dicembre 2015. Purtroppo questa non è una storia a lieto fine, almeno non ancora. Certo, le pagine di questa storia si scrivono giorno per giorno e diciamo che la parola fine ancora non è stata scritta. Per alcuni purtroppo, per altri per fortuna. Ma che fine ha fatto Garbagnate? Che fine ha fatto l'ospedale Guido Salvini? Beh, tanta gente grida all'ennesimo caso di malasalità in Italia e non sarebbe il primo e molto probabilmente non sarà l'ultimo. Dato che alla fine di tutta questa storia l'ospedale Guido Salvini esiste, o meglio, ne esistono due, proprio perché a pochissimi metri di distanza dal vecchio ospedale, quello che oggi versa in stato di abbandono, è stato recentemente costruito il nuovo ospedale Guido Salvini. Un ospedale più moderno, ma che ha lasciato un gioiello in stile Liberty in completo abbandono, lasciato a se stesso, con tanto di bando aperto. E c'è da sottolineare che è stato aperto sotto sollecitazione dei cittadini. E un'altra cosa è certa, non sarà facile trovare un futuro a questo complesso, proprio perché ha sottoposto a vincoli che ne impediscono lo stravolgimento e ne limitano la destinazione d'uso. Questo che cosa significa in parole povere? Questo significa che sarà molto difficile che l'ospedale Guido Salvini diventi qualcosa di diverso da un ospedale, ma ovviamente avendo un ospedale a neanche 100 metri di distanza, nuovo e in funzione. E quindi siamo arrivati ad oggi. Ho già fatto un video sul vandalismo di Garbagnate. Sono 5 anni che versa in stato di abbandono e sono 5 anni che nessuno ha voglia di fare niente. Sono 5 anni che questo posto, piano piano, viene distrutto e vandalizzato con una velocità esponenziale rispetto a tantissimi altri posti che ho visitato e che ho esplorato. Forse per la sua facile accessibilità, forse per la sua grandezza, per la sua immensità che difficilmente sfugge all'occhio, forse per la fama che lo precede. Ma resta il fatto che Pedale di Garbagnate milanese rimane uno dei posti più vandalizzati che abbia mai visto, ma allo stesso tempo uno dei più affascinanti, dei più belli e uno di quei posti che difficilmente ti dimentichi una volta che ci passi per caso, una volta che lo esplori, ti rimarrà sempre qui. Forse per i suoi tramonti bellissimi, forse per la sua tranquillità, forse per la sua non tranquillità, forse per l'alone di mistero che gira attorno ai sotterranei di questo posto. Ci sono tante motivazioni per cui un posto rimane in testa e quindi sta a noi riuscire a preservare un posto di questo tipo, un gioiello artistico e architettonico di questo calibro che poche volte ormai si vede e sta a noi riuscire a fare in modo che altre persone vadano lì e facciano il lavoro che sta già facendo il tempo e la natura. Grazie per la visione.